Il Covid, ma non solo, nella prima parte di questo 2020 le famiglie torinesi hanno tirato la cinghia. Paolo Volpato. Le famiglie torinesi stanno tirando la cinghia e non è tutta colpa del Covid. I livelli di spesa sono tornati a cinque anni fa. Lo spiega la periodica ricerca della Camera di Commercio sui consumi. Pesa soprattutto il calo del non alimentare. Alla voce servizi sanitari e salute, visite specialistiche, analisi e farmaci, la spesa è scesa di oltre il 31%. Quasi il 25% in meno per viaggi, vacanze e pasti fuori casa. Riduzione di oltre il 22% negli acquisti di giornali, libri, articoli sportivi, videogiochi, concerti, teatro, cinema. Ma quel che è peggio è che solo il 18,8% delle famiglie intervistate ha dichiarato di riuscire a risparmiare. L'altro anno erano il 33%, quasi il doppio. Dunque dimezzati i risparmi, dimezzata la spesa, che peraltro si è rivolta più che in passato agli ipermercati e all'e-commerce. Le famiglie che non hanno speso oggi spenderanno domani, secondo questi dati? Purtroppo non è sicuro, perché le famiglie stanno risparmiando di meno e hanno meno reddito quindi disponibile. Stanno anche, uno su tre dice che sta intaccando i risparmi di famiglia. Nella sostanza dietro al Covid c'è la crisi. Purtroppo sì. L'emergenza Covid, secondo la ricerca, ha accentuato una riduzione dei consumi già in corso e ha costretto il 34,4% delle famiglie a intaccare i propri risparmi. Cresciuta dal 16 al 28% la quota di chi ha comprato beni di seconda mano e non per bezzo.